e oggi siamo su pocket morti superami 4 like e vi farò subito un altro video se vi piace intanto iniziamo il gioco morti smettere di fare avanti indieta e passami quel cacciavite ok eric tieni cosa stai costruendo un dispositivo morti l'ho chiamato morti pad ok il morti pad è da lì che proviene questa musichetta si morti aspetta quale figo si morti ma come al solito si succede il vero punto della questione il morti può raccogliere anche tutti i dati dei morti che incontriamo c'è tantissime dimensioni e ognuno c'è i morti deve figo sto ricevendo degli stani dati però sembra che i morti vengano separati dai loro Rick no ma è terribile Rick già cioè ne abbiamo bisogno di una pausa di morti ogni tanto ma queste cifre sono spropositate Rick guarda un portale un altro Rick qui per l'immorti pad come il morti pad non sono qui per cattuare no sono qui per cattuare con i morti ah perfetto non voglio il mio morti pad vuole solo te morti ma perché vuoi me? fa quello che dice morti non fai ritorno a me una ricca ma vabbè e poi è così bello lo voglio fermalo Rick che pia delicata che si tratta del leggendario morti e va bene come al solito Rick salvare la giornata ok e amico il mio morti è qui per te non è qui per te intorno nelle tue dimensioni tu amorti vuoi dire che l'hai già catturato? sono arrivato tardi ne abbiamo non abbiamo altra scelta i morti devono sfidarsi Rick non mi sembra una buona idea aspetta amorti potrebbe essere una buona occasione per testare il morti pad di raccogliere i dati non credo dove farlo Rick non mi sembra sicuro tranquilla morti è un amico che ci aiuterà andrà tutto bene combattiamo ok sei stato sfidato da Rick misterioso morti gatto randaggio vai morti allora wow sono qui ok attacca scoppio ok ha levato 5 ma no attacca di nuovo scoppio ok mi posso assicurare che non è tutto così è molto bello quindi dopo un po' sarà molto bello credetemi ok estordito c'è una stella e c'è un sito esotico va bene ha sconfitto Rick mi 40 smelcle ok sconfitto io non è possibile tornare nella dimensione ad allenare il mio morti wow ha sentito anche questa morti che scarica molto dolore poverino c'era qualcosa di fregato adesso andiamo avanti che non vi voglio mamma mia ok doveva entrare nel portale credo morti questa deve essere la dimensione di Rick misterioso dovremmo dare un'occhiata ok Icona cosa fai ok ho un po' capito c'è qualcosa qua no quasi che c'è Harry guarda c'è qualcosa per te hai ragione morti raccogliamola ha ricevuto un chip manipolatore di morti guarda un altro morti una versione malinconica è vero e va bene catturiamolo no ma che è rara anche il chip non lo voglio catturare più giusto lo faccio fuori tocca aiaia no uffa non voglio vabbè tanto non credo sia tanto raro no vabbè chip manipolatore oddio nell'occhio glielo inserito l'ho preso l'ho preso l'ho preso hai catturato un morti malinconico se obiettivi uh anche obiettivi sto gioco wow wow ottimo ce l'abbiamo fatta ok ora questo qua uff e ora ah ci segue figata andiamo avanti e chi è questo lo dobbiamo sfidare ottimo morti baffuto cos'è ah ok ho capito e credo sia ottimo quindi siamo sono avvantaggiato ora dato che sono pietre le forbici sono avvantaggiato dove vincere io e vediamo spada bam gli ho tolto metà vita attacca sbatti ce la vediamo eh però dai attacca sbatti e muore morti baffuto estordito smelke che è un fiero va bene ottimo ok morti impostati il morti che teniamo conto di tutti i morti che abbiamo incontrato fantastico tocca il morti pad per accedere agli oggetti cos'è sta roba claim un coupon figo oggetti di nuovo oggetti oh belli sti oggetti credo che siano belli andiamo avanti allora a fronte del rick misterioso giriamoci un po' intorno vediamo cosa c'è niente e va bene andiamo ancora tu ok sarà lui a vincere vediamo ancora lui modo attacco è forte dato che forbice meglio usare lui ok attacca sbatti sbatti oh ok ok può ci dare no ok forte dai vittoria 48 di p ok 2000 che si ero un altro si ero roccia plutonica ma cosa foste qua un emblema no di noir cos'è l'emblema ok dove siamo questo non è il garage cittadella d'eric cos'è best fermatelo allora bene bene ci incontriamo ancora mi spiegherò alla fine ok raga ha detto che praticamente che siamo intrappati qui e ci deve sconfiggere tutti se voglio andarmene via e ogni volta che sfido uno più emblemi ho più posso sfidare uno se ho 5 emblemi sfido il primo 20 emblemi trovo sfido un altro e ditemi nei commenti se ah figata non sei ancora alla mia altezza quando avrai due emblemi ok quindi se tengo premuto e premo così corro bello che è sto qua morti peluche no non la posso prendere strano cos'è ah cura quanto costa gratis cosa beh spero che questo video vi sia piaciuto così ne facciamo facciamo subito un altro video superami 3 like e ne escerà subito un altro quindi beh allora spero vi sia piaciuto lasciate like iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao